buongiorno buona giornata a tutti è un pochino che non ci sentiamo ovviamente nei giorni passati gran parte dell'attenzione giustamente era rivolta ai fatti di genova io non ho voluto commentare il governo sta già facendo assolutamente le cose che devono essere fatte e che tra l'altro il movimento 5 stelle da tantissimi anni ribadiva l'importanza di una gestione delle infrastrutture nella maniera più efficiente e trasparente possibile quindi non ho voluto entrare nel merito appunto dei fatti di genova ma ho continuato diciamo a studiare le mie le mie materie che continuano a essere la parte energetica sto sto studiando un libro sulla legislazione a livello sia nazionale che europeo e però ho voluto fare questa diretta perché come sempre quando si parla di grandi avvenimenti ci sono grandi interessi economici dietro e ogni volta che ci sono grandi interessi economici c'è la parte finanziaria c'è la parte bancaria e questo pomeriggio alle 17 posterò un articolo di un di un esperto bancario che descrive come l'operazione di acquisizione di autostrade italiane è avvenuta a costo zero per benetton è avvenuta a costo zero l'articolo è già in circolazione quindi potete anche già eventualmente cercarlo io l'ho messo in programmazione lo posterò alle 17 e appunto descrive come questa operazione finanziaria è avvenuto a costo zero per i benetton che così si sono impadroniti di autostrade italiane praticamente senza sacrificio economico e utilizzando anche un prestito di un miliardo e duecento milioni da parte del sistema bancario allora perché ho voluto fare questa diretta perché come sempre quando si parla di grandi interessi economici ci sono in mezzo ai grandi poteri finanziari ci sono naturalmente le banche banche che naturalmente possono fare bene il loro lavoro e altre volte possono farlo meno bene e cosa possono fare tutti i cittadini cosa possiamo fare ciascuno di noi ne investe di cittadino beh come facciamo per qualsiasi altro prodotto e per qualsiasi altro servizio possiamo mettere a confronto le varie banche e possiamo spostarci possiamo traslocare quante volte ciascuno di voi ha cambiato operatore telefonico ha cambiato operatore telefonico per risparmiare magari cinque euro al mese perché magari la nuova offerta vi dava gli stessi minuti vi dava gli stessi gigabyte però magari costava cinque euro in meno oppure viceversa costava uguale però vi dava più minuti più sms più gigabyte di traffico dati e questa cosa la facciamo da anni perché ci siamo accorti che è semplice farla si va diciamo in un centro commerciale in un negozio che fa queste operazioni e firmando un modulo molto velocemente si cambia operatore telefonico perché perché è il nuovo operatore telefonico che si sobbarca tutta quella parte burocratica di sganciamento dal vecchio per passare appunto a quello nuovo e quindi noi come clienti finali siamo molto invogliati a fare questa operazione anche spesso per risparmiare qualche soldino perché è molto semplice ecco con le banche questa operazione non la facciamo non la facciamo perché a torto ha ragione pensiamo sia molto più complicato c'è una parte di verità e una parte di non verità perché la legge prevede espressamente da due anni la legge prevede espressamente che il correntista possa cambiare traslocare il conto corrente e la banca vecchia vecchia è obbligata è obbligata non è un favore che ci fa ma è obbligata dalla legge a fare questo trasloco in 12 giorni lavorativi in 12 giorni lavorativi e la chiusura del vecchio conto corrente è a costo zero anche con alcune postille che adesso vi spiegherò quindi il messaggio principale è questo così come siamo abituati giustamente giustamente a mettere in concorrenza le varie compagnie telefoniche dei cellulari cambiando spesso operatore man mano che troviamo un'offerta più conveniente ed è giusto è sacrosanto utilizziamo la nostra facoltà anche quando andiamo al mercato confrontiamo le bancarelle con i prezzi di frutta e verdura e andiamo in quella che ci sembra la migliore la più la più economica così come lo facciamo sulla telefonia possiamo farlo per le banche molto velocemente perché la banca attenzione sempre per legge deve avere di predisposto un modulo un unico modulo che voi potete firmare che voi in questo caso dovete firmare se volete trasferirvi una nuova banca che vi fa condizioni migliori ovviamente ci si trasferisce quando si trovano condizioni migliori la vecchia banca deve avere predisposto un modulo un unico modulo un unico modulo con la quale voi chiudete il conto traslocate sulla nuova banca tutte le operazioni burocratiche connesse le deve fare la vecchia banca comprese anche le domicilazioni delle utenze quindi se voi siete abituati a pagare l'assicurazione la bolletta del telefono la luce il gas tramite appunto domicilazione bancaria è la vecchia banca che deve sobbarcarsi l'onere di comunicare ai vari gestori ripeto acqua luce gas il nuovo iban il liban della nuova banca in modo che voi siete tranquilli beati pacifici e non dovete esserverlarvi di fare in varie in fare queste operazioni appunto che portano via tempo allora io parto dal diciamo dal dalla premessa che nel 2017 c'è stato un aumento generalizzato dei canoni sui conti correnti addirittura grandi banche come intesa san paolo e unicredit hanno dato un sostanziale giro di vite ai conti correnti più diffusi che si chiamano zero tondo e genius smart aumentandoli addirittura fino al 140 per cento quindi pensate un aumento del 140 per cento quindi io mi ritrovo quasi due volte e mezzo il canone per il conto corrente e anche i costi dei servizi come bonifici online prima quasi sempre cresciuti e gratuiti sono cresciuti del 36 per cento rispetto al 2016 quindi arriviamo da un anno diciamo orribile in cui le banche hanno aumentato di molto questi conti ora io ribadisco c'è una legge purtroppo spesso ignorata e questa è la prima difficoltà però mi faccio carico io stesso di sollecitare banca d'italia a controllare perché come vi dirò tra poco ci sono delle multe banca d'italia può sanzionare quelle banche che non rispettano questa legge ripeto questa legge è entrata in vigore due anni e mezzo fa prevede tempi brevi e una procedura semplificata per chiudere un conto corrente e aprirne un altro il correntista può cambiare conto in 12 giorni lavorativi firmando un modulo che autorizza la nuova banca a fare con quella vecchia tutte le operazioni necessarie per trasferire i servizi finanziari e di pagamento che sono addebitati o accreditati sul vecchio conto corrente quindi le bollette lo stipendio la pensione eccetera eccetera quindi una procedura rapida semplice e senza spese che mira ovviamente ad aumentare la mobilità dei correntisti e quindi il livello di concorrenza del mercato facendo crescere la possibilità di risparmio inutile ribadire che se vogliamo maggiore concorrenza prezzi più bassi dei servizi bancari bisogna mettere in gioco le banche bisogna farle concorrere tra di loro e non dobbiamo avere nessun timore a cambiare conto corrente anche spesso esattamente come si fa ripeto per la telefonia per la telefonia io trovo un'offerta che mi da 5 gigabyte in più e 100 sms in più cambio cambio immediatamente perché perché dovrei rimanere con con il vecchio operatore se quello nuovo mi da 5 gigabyte in più e 100 sms in più lo faccio questo si deve fare assolutamente anche con le banche che altrimenti guadagnano sulla nostra inerzia sulla nostra proprio pigrizia nel metterli in concorrenza qual è una delle prime difficoltà oggettive che molto spesso i consulenti delle banche non conoscono questa procedura non la conoscono è una legge è una legge dello stato è in vigore sono previste addirittura delle multe ma 44 consulenti bancari non con su 100 qual è 44 per cento non conosce questa legge e addirittura due su tre la boicottano addirittura due sui tre la boicottano perché propongono la vecchia procedura che è molto più onerosa quindi va detto esplicitamente a qualsiasi impiegato bancario che dovesse fare storie che c'è una legge che prevede questo e addirittura prevede che banca d'italia possa sanzionare le banche che non ottemprano possa sanzionarle con una multa da 30 mila euro fino al 10 per cento del fatturato della banca una multa da 30 mila euro e fino al 10 per cento del fatturato della banca quindi io mi impegno in qualità di parlamentare ovviamente con i colleghi della commissione finanza a far presente a banca d'italia che deve monitorare più attentamente le banche perché non è possibile che appunto due due consulenti su tre addirittura boicottino questa procedura proponendo quella più lunga quella più complicata e addirittura il correntista ha diritto a un indennizzo udite udite il correntista ha diritto a un indennizzo se il trasferimento supera quei 12 giorni lavorativi che vi ho detto essere il termine obbligatorio per legge entro il quale la vecchia banca deve deve aver compiuto il trasloco nella nuova quindi insomma il conto corrente deve passare dal vecchio conto al nuovo se si superano questi 12 giorni il correntista ha diritto ad un rimborso non vi sto qui a spiegare esattamente la cifra non sono non sono grosse cifre si parla di 50 60 euro però voi capite bene se che si cominciano a moltiplicarsi per migliaia di casi cominciano a essere anche decisamente delle cifre e poi chiaramente è il principio che conta è il principio che conta vi ho detto tante volte ci sono associazioni di consumatori io adesso sto leggendo vi sarete accorti sto leggendo chiaramente una rivista di un'associazione di consumatori che vi può dare molta assistenza su questo addirittura determinate associazioni hanno già predisposto la lettera il modello di lettera da inviare alla banca nel caso non ottemperi quindi per chiedere proprio l'indennizzo in caso di ritardo nel del trasferimento del conto corrente ci sono ribadisco associazioni di consumatori che vi danno assistenza anche telefonica su questo quindi come sempre come in tanti anni ho ribadito valutate l'opportunità la possibilità di entrare nelle associazioni di consumatori che sono specializzate sull'assistenza e sulla tutela di questi diritti di base ora sulla gestione del conto corrente sulla chiusura del conto corrente io prima vi ho detto e lo ribadisco che la sempre per legge è stato stabilito che appunto la chiusura del conto corrente non comporta spese lo ribadisco la chiusura del conto corrente non comporta spese però qual è il però che il contratto che avete firmato con la banca può avere tutta una serie di costi che non sono costi di chiusura del conto non sono costi di chiusura sono costi di gestione sono costi di gestione per la disattivazione per esempio di determinati servizi aggiuntivi affidati a terzi a condizione che siano stati menzionati nel contratto vi possono chiedere delle voci di spesa possono chiedere altri voci di spesa di costo specifiche sottoscritte al momento dell'apertura del conto corrente vi possono chiedere eventuali costi passivi residui sul conto quindi l'indica il consiglio è sempre quello attenzione ogni volta che firmate un contratto di apertura di conto corrente non guardate semplicemente i costi espliciti che sono evidenziati magari a grandi lettere ma guardate su tutte le clausole e guardate quelli che sono i costi eventuali nel momento in cui voi terminate chiudete un conto corrente perché ci possono essere delle voci di spesa che non sono relative alla chiusura ma sono relative alla gestione e che la banca legittimamente può chiedervi quindi ancora una volta vi sottolineo l'importanza di utilizzare quelli che sono servizi di confronto dei costi dei conti correnti ci sono associazioni di consumatori che vi mettono a disposizione dei comparatori dei comparatori di costo di conti correnti e vi fanno vedere voce per voce vi mettono quelli che sono più economici io da anni naturalmente ripeto che esiste un altro tipo di finanza la finanza etica per la quale non dovete preoccuparvi di tutte queste non saprei neanche quale termine usare tutti questi diciamo così trucchetti da parte delle banche normali per raccogliere da voi tutto il denaro possibile perché la finanza etica lavora in maniera completamente diversa quindi non va a giocare sulle sulle clausole vessatorie le cosiddette clausole clausole fregatura come vi ho ribadito esiste anche per il mondo assicurativo ci sono le assicurazioni etiche che fanno la stessa la stessa gestione assolutamente pulita etica senza con costi nascosti quindi attenzione ogni volta che aprite un conto corrente a verificare perfettamente tutte le spese il messaggio che però che con cui volevo che volevo trasmettervi con questa con questa breve diretta è che c'è l'obbligo di legge per la banca di trasferire il vostro conto corrente in 12 giorni lavorativi se voi passate da una vecchia banca a una nuova banca la vecchia banca deve permettere che l'operazione si concluda in 12 giorni lavorati in 12 giorni lavorativi sanzionabile se non lo fa ci sono delle sanzioni quindi un indenizio che potete richiedere la banca d'italia può indenizzare e ribadisco noi premeremo perché la banca d'italia controlli l'effettivo rispetto di questa legge e la chiusura del conto corrente deve avvenire gratuitamente ribadisco la chiusura del conto purtroppo a seconda del contratto che avete firmato ci possono essere dei costi ulteriori che quelli effettivamente li dovete versare alla banca quindi facciamo facciamo sì che le banche vadano veramente in concorrenza non che come è successo nel 2017 i costi dei conti correnti sono aumentati sono aumentati del 36 per cento mediamente o meglio i costi dei servizi come i bonifici online sono aumentati il 36 per cento mentre grandi banche come intesa san paolo e unicredit hanno aumentato fino al 140 per cento i costi dei loro conti correnti principali mettiamoli in concorrenza cambiamo conto corrente possiamo farlo spesso tanto quanto cambiamo le compagnie telefoniche quindi utilizziamo il nostro potere di consumatori spostandoci man mano nei servizi più convenienti né dai fornitori più convenienti io da anni vi ribadisco di aver individuato nella finanza etica e nella sicurazione etica i fornitori migliori dal punto di vista del rapporto qualità prezzo e dal punto di vista della mancanza di pratiche scorrette di mancanza di pratiche scorrette in questi operatori della finanza etica e della sicurazione etica quindi potete andare nei miei video precedenti e trovare molte indicazioni in questo senso per il resto vi ringrazio dell'attenzione che mi ha seguito come sempre se avete piacere condividetelo con i vostri amici con i vostri conoscenti e buon agosto a tutto un saluto in particolare in particolare a chi sta lavorando in questa in questo agosto naturalmente chi sta lavorando a la massima solidarietà riprenderemo tutti tra poco chi è in ferie si goda le ferie cerchi di ricaricare le batterie e riposarsi leggo un attimo un commento sì Anna il discorso dell'assicurazione vita ne abbiamo parlato tante volte le banche quando accendi un finanziamento ti costringono molto spesso a firmare dei contratti accessori che possono essere dei derivati che possono essere delle sicurazioni sulla vita e questo è semplicemente il gioco commerciale nel senso che la banca ti propone e tu come consumatore sei libero di accettare o non accettare è chiaro che è che se hai bisogno di soldi e le altre banche non ti fanno condizioni migliorative è chiaro che a certo punto devi accettare anche questo questo balzello in più purtroppo purtroppo così io come come ho già detto ribadisco ci sono determinate banche c'è la finanza etica c'è banca etica che non fa questo tipo di giochini quindi se ti apre un finanziamento te lo apre senza fatti contratti collaterali ringrazio a tutti buona giornata e buon agosto a tutti